buonasera benvenuti a questo dialogo direi con giulio busi e silvana greco sul loro libro amare si seduzione e desiderio nel rinascimento dal mulino prima di così fare una piccola introduzione a questo a questo a questo dialogo e lasciare la parola agli autori vi dico anche qualche parola sugli autori stessi devo confessarvi che la cosa più bella che si può dire su un autore anche la cosa più elogiativa che si può dire su un autore è non dire nulla perché si suppone che sia così conosciuto così noto che non ci sia bisogno di dire nulla ma soltanto il suo nome e questo si dovrebbe fare con giulio busi ma vi dirò perché perché si dovrebbe fare perché dovreste conoscere perché spero che conosciate bene giulio busi perché giulio è uno dei più importanti studiosi internazionali non solo italiani di mistica e filosofia ebraica e professore giudaistica alla freie universitet di berlino esperto di storia rinascimentale infatti ha dedicato una parte del suo lavoro come in questo caso alla storia rinascimentale non sempre necessariamente legata alla cultura ebraica ma anche legata alla cultura ebraica è autore di una enorme quantità di volumi da la casa editrice in audio ha pubblicato nella grande collana dei millenni diversi testi importanti sulla mistica ebraica dall'edizione dello Zohar a un volume innovativo sulla cabala visiva quindi su tutto l'aspetto iconografico dei manoscritti cabalistici agli studi sulle città di luce letteratura dei palazzi celesti di cui uno dei massimi esperti mondiali un libro su picco della mirandola è un'antologia di testi su picco della mirandola in parte legati alla tradizione cabalistica in parte alla tradizione filosofica occidentale e ha pubblicato poi una serie di volumi con l'editore mondadori una serie di monografie su importanti personaggi rinascimentali ma non solo michelangelo lorenzo de medici marco polo giulio secondo e poi per la casa editrice il mulino ha pubblicato due volumetti piccoli solo nella misura che abbiamo presentato e discusso qui al circo di lettori entrambi in un appuntamento che alcuni di voi conoscono si chiama caffè filosofico che si tiene in un'altra sala e questi libri sono indovinare il mondo e uno un libro sull'uno il primo libro che inaura una collana numerologica diciamo così edito dal mulino libri in cui la filosofia si intreccia con l'esperienza personale narrazione letteraria e siamo dal campo degli studi più specifici del rinascimento e della tradizione ebraica per essere come dire un saggio a tutto tondo filosofico e poi ecco il volume di oggi edito dal mulino di nuovo è pubblicato insieme con silvana greco l'ultima cosa giulio è da tantissimi anni collaboratore del solo 24 ore del supplemento culturale solo 24 ore ed è presidente della fondazione bondoni pastori silvana greco è studiosa di sociologia e cultura dell'arte e professoressa alla tecnicche universitet di dresda e alla frai universitet di berlino e sei tra i suoi ultimi libri il sociologo eretrico moses dobrushka e la sua filosofia sociale e insieme con giulio busi il rinascimento parla ebraico e ovviamente questo volume ed è vicepresidente della fondazione bondoni pastori allora giungendo al nostro libro io vi racconto la mia esperienza di lettore devo dire che è raro essere sorpresi da dal lavoro di uno studioso di due studiosi in questo caso soprattutto se si conoscono questi studiosi da tempo e ancora di più se sono degli amici come in questo caso eppure è accaduto come possibile perché per diverse ragioni la prima ragione è perché il lettore si aspetta di trovarsi tra le mani un saggio tutto propenderebbe per queste ipotesi la bibliografia l'uso rigoroso delle fonti le note al fondo dei volumi il contenuto stesso però invece non è così è soltanto un'apparenza questo libro finge di essere un saggio in realtà è un'altra cosa che cos'è il lettore se ne accorge subito a meno a me è capitato perché di solito così lo dico un po scherzosamente no i saggi sono noiosi è la loro natura per scritto saggi saggi devono essere un po noiosi invece qui non c'è la sensazione da noi anzi tutt'altro questo libro secondo me è una narrazione è una vera e propria narrazione un racconto diciamo così un racconto del desiderio intendendo del desiderio nel duplice senso del genitivo quindi un racconto che ha come oggetto come contenuto il desiderio la seduzione questo è evidente ma è anche un racconto che il desiderio stesso compie e lui il soggetto di questo di questo libro e lui e i suoi autori i suoi autori attori diciamo così e questo desiderio ci conduce attraverso delle stanze queste stanze in cui ci muoviamo accompagnati come dire dai nostri autori hanno dei nomi come nella tradizione rinascimentale si parla di viaggi mnemotecnici oppure di viaggi onirici cioè la mente la memoria per memorizzare i contenuti si immaginava delle architetture dei palazzi in cui c'erano degli oggetti delle statue su cui c'erano dei nomi ecco giulio e silvana ci portano per le stanze di questo palazzo che hanno costruito che hanno edificato che è un palazzo del desiderio e ci sono cinque stanze principali poi ci sono tantissime altre stanze ma queste stanze hanno un nome e questi nomi sono guardarsi parlarsi toccarsi ripeto guardarsi parlarsi toccarsi baciarsi e fare l'amore queste sono le cinque stanze principali poi ovviamente visto che la casa del desiderio non può che essere un labirinto in cui ci si perde anche ci sono infinite altre stanze ma queste cinque stanze sono quelle principali e esprimono i gradi dell'esperienza erotica come avete capito i gradi ascendenti di questa esperienza e sono i gradi riconosciuti già dalla tradizione classica a partire da qualche spunto in in ovidio e poi avanti quindi la costruzione è così ma poiché si tratta di un viaggio erotico rinascimentale in questo viaggio non possono mancare le immagini e il libro è tutto in tessuto di immagini la sua trama costitutiva è fatta di immagini e qui viene la seconda sorpresa però perché e questo rappresenta un'ulteriore fedeltà allo spirito rinascimentale di questo libro non solo nel contenuto ma fedele allo spirito rinascimentale nella sua stessa costruzione queste immagini non sono illustrazioni del contenuto del libro questo non è un libro illustrato sarebbe molto grossolano considerarlo così come sarebbe grossolano considerare illustrato l'ipnerotomachia polifili il più bel libro considerato il più bel libro a stampa della storia della stampa 1499 e che la storia proprio di un viaggio erotico il combattimento da amore in sogno ipnerotomachia polifili polifilo dicevo queste immagini non sono delle illustrazioni queste immagini si trasformano sotto i nostri occhi questa è la seconda sorpresa come avviene nelle stanze del desiderio il desiderio trasforma tutto trasforma la realtà nelle stanze del desiderio la realtà si trasforma entrati dentro le stanze di questo palazzo che è il libro la realtà si trasforma sotto i nostri occhi e che cosa succede le immagini che vediamo e le parole che leggiamo si trasformano si trasmutano sotto il nostro sguardo che cosa succede questa è stata la mia esperienza non è una specie di gioco che io vi così invento le parole si trasformano in immagini si fanno immagini le parole che leggiamo non soltanto perché descrivono interpretano le immagini del del testo questo è ovvio ma perché queste parole hanno una sensualità hanno una tessitura musicale che dipinge immagini che si fa immagine dentro di noi queste parole diventano immagini dentro di noi sono parole iconografiche nel senso letterario del termine cioè che dipingono immagini e questo ha a che fare ancora una volta con una grande esperienza rinascimentale l'esperienza dell'ekphrasis come si dice cioè la capacità delle parole di narrare di rendere palpabile un'immagine rendere visibile un'immagine attraverso le parole questo ciò che queste parole le parole di questo libro fanno almeno questa è la mia esperienza ma allo stesso modo accade la cosa opposta e cioè che le immagini si fanno parola perché si fanno parola non solo perché sono narrate sono interpretate nel testo ma perché hanno un potere queste parole un potere estetico una specie di logos esteticos o eroticos come dire queste immagini queste immagini ci ci persuadono ci convincono ci sono suadenti ci seducono e ci guidano in un mondo che creano che inventano che raccontano che diventa una storia e tutto questo accade a tal punto che il lettore a un certo punto non si accorge più se sta leggendo un testo o guardando un'immagine talmente queste due realtà si mescolano si trasmutano l'una dell'altra per questo si può dire che almeno secondo me forse la caratteristica principale di questo libro è la sua natura metamorfica questo libro si trasforma si trasforma come dicevo sotto i nostri occhi sotto il nostro sguardo si trasforma continuamente sempre sul punto di diventare qualcos'altro questo è anche quello che garantisce la sua vitalità la sua anche la sua irresistibilità e la sua inafferrabilità e questo è esattamente per così dire ciò che ne costituisce la magia e qui giungiamo alla terza sorpresa perché perché questo è un libro magico ma non un libro magico così per dire un libro magico nel senso letterale del termine il rinascimento voi sapete è l'era della magia per eccellenza allora c'è un grandissimo testo sulla magia del rinascimento di un autore di origine romena culiano eros e magia del rinascimento un testo di una straordinaria bellezza anche in un certo senso pionieristico che dice che l'eros è magia inconsapevole l'eros è una magia inconsapevole perché perché l'eros agisce sulla nostra immaginazione sulla nostra facoltà immaginativa sulla nostra fantasia e fa nascere dei fantasmi fantasmata nel senso tecnico del termine cioè delle immagini sottili che intossicano che invadono che conquistano la nostra psiche la nostra immaginazione noi ci facciamo immaginare immagini dell'amato dentro noi queste immagini ci conquistano viviamo di questi fantasmi allora questa è la magia erotica e questo è letteralmente un libro di magia erotica un libro di magia erotica rinascimentale anche stato scritto adesso in cui i suoi autori forse non tanto inconsapevolmente questo bisogna dire la verità un po come dei maghi rinascimentali hanno un po sono un po due maghi rinascimentali se hanno due amici lo posso dire che è un po così quindi devo avvertirvi prima attenzione perché poi se comprate il libro e lo avrete in casa avrete questo oggetto per cui tenete conto che io vi devo avvertire è corretto farlo ed è ontologico che cosa ha rischiato però d'altra parte vuole essere sedotto così cosa fanno questi maghi rinascimentali attraverso l'incantamento delle immagini delle parole agiscono sulla nostra immaginazione la colonizzano la catturano la cattano infatti uno poi non riesce più a smettere di leggere questo libro uno pensa che sia un saggio noioso e poi invece diventa una sorta di dipendenza quasi e fa come dire popola la nostra immaginazione i nostri fantasmi del desiderio e questa è un po e questa è la quarta è la quarta meraviglia è questa e che questo libro è un performativo come dicono i filosofi del linguaggio cioè qualcosa che fa ciò di cui parla nel senso che non si limita a parlare del desiderio a seduzione ma fa parlare il desiderio a seduzione si fa desiderio e seduzione suscitandoli nel lettore anzi si fa anche desiderio di se stesso cioè il desiderio del libro il libro fa desiderare se stesso seduce il lettore e lo cattura in questo in questo movimento e perché questo accade qui è l'ultimo punto con cui concludo l'ultima magia l'ultima meraviglia l'ultima sorpresa e che in realtà questo libro alla fin fine secondo me non è fatto né di parole né di immagini e di cosa è fatto secondo me è fatto di musica è questo che costituisce la natura più più intima più profonda più segreta di questo di questo libro che d'altronde è costruito un po' come una sinfonia in cinque movimenti musicali a tal punto che mi sono reso conto solo dopo a posteriori lo giuro e che anche il mio intervento è stato talmente catturato dalla potenza mimetica di questo libro che anch'io ho costruito il mio intervento su cinque movimenti e se lo racconto solo dopo questo vedete sono stato vittima di questa magia quindi questa dimensione musicale è intrinseca caratteristica c'è un ritmo, c'è un movimento, c'è un basso continuo, c'è un fondo che ci cattura e perché è così legato all'Eros? basta pensare a uno dei grandi filosofi che forse è quello che si è pronunciato in una maniera più raffinata, più sottile sull'Eros che è l'unico filosofo danese di cui si parli nella storia che è Soren Kierkegaard, il grande filosofo danese che ha scritto moltissimo sulla seduzione e parlando del seduttore per eccellenza, per antonomasia che è il Don Giovanni di Mozart ha inventato due espressioni straordinarie due espressioni indimenticabili e queste espressioni sono il musicale erotico e la genialità sensuale lui usa queste espressioni per parlare del Don Giovanni il Don Giovanni è come musica è genialità sensuale che inventa in ogni momento se stesso e si reinventa ed è come una melodia, un ritmo che cattura irresistibilmente le anime allora la mia sensazione è che musicale erotico e genialità sensuale abitino instancabilmente le pagine di questo libro seducente e seduttivo e seduttore esattamente come scoprirete tra poco i due autori che lo hanno scritto e a cui lascio la parola grazie Guido e dopo una simile presentazione magico esoterica, erotica per me è difficile prendere la parola anche perché non potremo che deludere penso è una lettura molto bella, molto personale la cosa bella di presentare una delle cose belle è presentare a parte incontrare il pubblico dei lettori o degli aspiranti lettori o degli amici ha sempre una ricompensa è sempre molto affascinante anche perché è un rapporto personale che si crea e incontrare un amico è una cosa anch'essa molto bella ma anche scoprire linee di lettura che un libro porta in sé magari e a cui non si è in realtà pensato in questi termini è vero che ci sono i cinque gradi che questi gradi dell'eros vengono dalla tradizione antica e che illustrerà meglio Silvana accompagnano e in fondo in qualche modo sono ancora vitali perché l'amore si sviluppa ancora in un modo abbastanza simile e quello che noi volevamo fare nel libro oltre alla magia e la musicalità che ha scoperto Guido che forse ci sono perché poi le cose vanno porte ecco questo il punto del suo intervento centrale è il passaggio da un'idea diciamo così un concepimento in cui ci siamo chiesti ma cosa vogliamo fare su che cosa proviamo a scrivere un libro assieme perché era una cosa che ci la sfida che ci appassionava e abbiamo pensato di scrivere un libro sull'amore però per costruire questo amore rinascimentale di libri sull'amore rinascimentale sulla sessualità rinascimentale sull'eros in pittura ce ne sono tanti parecchi anche ottimi c'è una ricerca di storia dell'arte di sociologia si va nella sociologa di storia culturale volevamo qualcosa di un po' più dinamico di un po' più appassionante che reggesse un racconto e quindi abbiamo scelto questa scansione che ci porta dalle idee astratte alla sensualità concreta e anche al farsi dell'amore perché l'amore è un processo di scoperta dell'altro e di negoziazione in qualche modo psicologica fisica e quindi volevamo qualcosa che non restasse in astratto ma diventasse concreto e in questo l'idea dell'arte era fondamentale nel senso che esiste un linguaggio del rinascimento italiano che è visivo che è tattile che è anche nella prosa che diventa molto più fisico e quindi non volevamo perdere questa dimensione anzi la volevamo scoprire per concludere questo breve cappello cosa volevamo fare volevamo mostrare che il rinascimento non è né solo bellezza astratta o bellezza platonica né solo questa retorica un po' paludata questa serietà che uccide secondo me un po' l'umanesimo e il rinascimento nella percezione nella percezione comune volevamo un rinascimento appunto più di pelle più di complessità visiva e anche più di complessità emotiva nel senso che nell'arte il rinascimento scopre c'è un salto tecnico non solo la prospettiva c'è il movimento del corpo nello spazio le ombre c'è una un'esplosione di tecnica dai primi decenni del quattrocento in poi e questo significa anche poter dire meglio le cose poterne dire di più e quindi recuperare una parte almeno della psicologia dell'eros che altrimenti in una miniatura medievale non si non si non si prende è troppo è troppo piatta è troppo è troppo semplice da un punto di vista figurativo magari il testo è molto complesso ma la resa visiva è povera mentre ci appassionava il fatto che raggiungere una tecnica diversa significa poter dire meglio le cose ma anche costruire una psicologia una raffinatezza emotiva diversa di cui noi siamo figli perché siamo figli di questa o nipoti di questo balzo espressivo che poi abbiamo voluto cancellare abbiamo scorporato con le avanguardie abbiamo disgregato ma questo è un altro un altro momento adesso manderei la la presentazione e proviamo a a inoltrarci nella scansione del libro buonasera a tutti e ringrazio ancora Guido Guido Urivio per questo invito allora abbiamo detto sì questa scansione in che inizia come ovviamente la l'incontro poi amoroso perché era questo che poi a noi interessava di comprendere come avviene questa interazione che inizia con il guardarsi poi con il parlarsi poi con il toccarsi e fine il baciarsi e poi il fare l'amore questo questo sviluppo dell'incontro dell'incontro amoroso nasce già nell'antichità con Leodi Guido e poi viene ripreso anche nel rinascimento da Leon Battista Alberti e anche da Lorenzo De Medici adesso vediamo un attimo qua ecco sì con Lorenzo De Medici che addirittura è ancora più sottile e allora divide sono addirittura sette i passaggi e soprattutto c'è anche la gioia la gioia quindi il guardarsi di parlarsi ma di solito quando quando si quando si dichiarava il proprio amore di solito lo facevano gli uomini magari con una lettera e quindi poi era era aspettavano con gioia no e con con ansia ovviamente anche la risposta della dell'amata e se era invece insomma se era benvenuto e ben voluto questo questo incontro allora c'era proprio la gioia ma Lorenzo De Medici ci ancora è ancora più sottile perché dice non è solo toccarsi e divide quella fase del toccarsi in due passaggi in prima proprio un sfiorarsi quando i corpi lentamente si 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 fanno sempre più vicini e poi l'abbracciarsi quindi qui vedete proprio un canto che lui aveva scritto qualche rima per il carnevale che gli scrisse e ecco noi possiamo dirci ma noi oggi perché come abbiamo detto che siamo anche figli del rinascimento e il nostro modo di arrivare e di proseguire nell'incontro appunto ricalca anche oggi spesso queste cinque fasi sebbene poi come i sociologi oggi invece ci dicono alcuni ci dicono che ci sono che c'è addirittura il declino del desiderio come il recente libro che è uscito con Inao di Zoya o addirittura come Eva Lutz che i nostri rapporti sono sempre più veloci più rapidi ma anche più queste intimità fredde lei parla di intimità fredde o addirittura appunto Bauman che ci parla invece di un amore liquido che è un amore che arriva che finché ci soddissa altrimenti si passa a un nuovo incontro mentre altri autori mettono in luce altri sociologi che addirittura gli amori che oggi nascono soprattutto più del 30-40% nascono tramite le piattaforme tecnologici e queste piattaforme permettono l'incontro però quello che succede che spesso volentieri c'è una di nuovo lo fanno diventare di nuovo romantico questo incontro e quindi se inizia con un guardarsi in realtà tramite queste piattaforme magari si vede una foto e ci si inizia a scrivere però ecco anche la scrittura è spesso anche una scrittura poetica no? ci si perché si vuole iniziare a sedurre l'altro a sedurlo però anche a comprendere comprendere l'altro che è chi ho di fronte e poi quando arriva quando invece si arriva all'incontro fisico nella si esce quindi dalla dimensione virtuale arrivando alla dimensione reale e di nuovo invece il pattern è di nuovo questo quindi quel romanticismo questo incontro che segue poi di nuovo una progressione di cui appunto il rinascimento ci ha parlato e di cui appunto ne siamo fini andiamo avanti con con la ok grazie e col guardarsi abbiamo visto la scansione il primo passo è il guardarsi e questo è uno dei tanti esempi del libro è Tiziano 1515 un momento straordinario del giovane Tiziano è anche un momento in cui vedete la complessità erotico psicologica perché non è una c'è un intruso nella durante la la vestizione e la la sveglia la vestizione probabilmente questo intruso tiene una figura maschile che tiene lo specchio e si crea un'intesa che non è solo diciamo così che non occupa solo il campo visivo del quadro è un'intesa molto sottile e difficile da da definire qual è infatti il quadro di Tiziano di questi anni penso anche al cosiddetto amor sacro e molto profano che ha la stessa datazione sono degli enigmi in realtà in parte irrisolti anche in questo quadro non si capisce cosa ci faccia l'uomo è un servitore no non è un servitore è un amante sì e no certo che la figura femminile ha il ruolo più importante e l'erotismo che nasce dalla resa pittorica e da questo specchio che è il primo passo del guardarsi perché di solito ci si prepara lo specchio e appartiene storicamente al mondo femminile sono le donne nel medioevo e nel rinascimento che si guardano lo specchio mentre invece degli uomini che si guardano allo specchio non bisogna fidarsi molto perché sono dei vanesi anche se poi si scopre dai testi letterari che hanno lo specchio nel berretto e se lo tirano fuori appena possono è un rito femminile però in questo rito femminile entra un personaggio che non dovrebbe essere lì il fatto che sia lì significa che il primo cinquecetto ha un erotismo tecnicamente visivamente molto raffinato perché vedete che c'è il riflesso nello specchio che riflette la scena e quindi c'è una specie di caduta anabim nel riflesso e anche una una diciamo così una resa erotica in questo sesso Silvana parlava di un nostro essere figli o nipoti di questo rinascimento per lo meno quando il desiderio funziona se ci allontaniamo del desiderio meno che esplora e si concede di esplorare un guardarsi che non è più solo di diciamo di verosimiglianza sociale ci si guarda dalla finestra si guarda in luoghi deputati ci si può guardare in altri no ma vedete 1515 ci si guarda anche in situazioni che sono più eroticamente più ambigue abbiamo un altro facciamo un breve un salto indietro in realtà per per fare il confronto con una siamo negli anni 40 del 400 già con una grande maestria ma con una un altro enigma è un guardarsi che non non si incrocia i due sguardi in realtà non si incrocia nell'uomo è a un piano un po' più basso della donna e lei la protagonista anche in questo caso sono molto più accostumati nel senso che siamo in un 400 in cui non c'è questa questo negligee diciamo del primo 500 veneziano siamo molto più rigidi e vestiti ma il rapporto tra i due che tra i due personaggi che occupano il quadro pur nel tema guardarsi che ci interessava nel primo capitolo è è è è è allo stesso modo enigmatico nel senso che è una promessa di matrimonio perché lui fa un gesto in realtà delle corna con la mano è un segno di lasciando perdere lasciando perdere è un segno di fecondità questo per dire che la la complessità psicologica abita lo sguardo e lo abita in maniere diverse a seconda dei dell'evolversi del del nostro racconto non abbiamo voluto fare cioè abbiamo voluto mantenere una precisa idea di cronologia e di sviluppo cioè non è tutto uguale una cosa è non parliamo di un rinascimento perenne una cosa è la prima metà del quattrocento e un'altra cosa è la venezia del 1515 e una cosa ancora diversa è la mantova gonzagesca di palazzo te nel senso che abbiamo voluto cercare anche nei cinque attraverso i cinque qua momenti dell'amore di dare una scansione storicamente appropriata e questo forse è la parte saggistica diciamo così a cui non abbiamo voluto rinunciare abbiamo il parlarsi adesso demola un chiste appunto il guardarsi quanto è importante nell'incontro amoroso e il parlarsi ecco effettivamente il parlarsi è il momento in cui i due amanti o i due persone che si sono guardate si hanno trovato un'attrazione dichiarano con gli occhi oppure con la scrittura il proprio amore ma sappiamo che come ogni dichiarazione può essere può essere estremamente accolta in modo positiva ma questo non sempre succede e qui vi parlo di una donna di una donna straordinaria che si chiama Propelzia De Rossi e qui vedete in questo basso rilievo che era nella chiesa di San Petronio a Bologna di una scultrice la prima scultrice che conosciamo è nata a Bologna e lei scrive e lei scusate lei fa questa scultura ed è quasi autobiografica perché qui vediamo Giuseppe e la moglie Giuseppe è un putifare sì e il servo il servo appunto di putifare è sempre appunto la la moglie e si è invadita di questo di questo servo però molte volte già lo sappiamo appunto dalla racconto nella Bibbia chiede chiede se lui se giacciono insieme giace con me però il servo non perché ha dato il suo alla sua parola ovviamente al suo signore e non assolutamente non se la sente non vuole tradirlo e quindi se ne va la lascia lì però lei riesce a prendere per un attimo la veste del servo e tiene in mano ancora queste due un po' qualche tessuto ecco e qui a proposito dei russi in realtà appunto vi dicevo è autobiografica questa opera straordinaria perché è stata una donna molto appunto molto intelligente molto capace e poi molto all'avanguardia perché era una delle pochissime artiste perché anche la per essere scultrice ci voleva anche una certa forza ci vuole ancora una certa forza ma lei invece appunto non era stata molto fortunata in amore era stata lasciata da un uomo però in questo in questa opera non solo è qui è già vediamo anche le donne hanno anche nel rinascimento cominciano a avere anche un ruolo di di cambiamento sociale di iniziano a avere un ruolo più attivo lei dichiara il suo amor già questo il fatto che la metta in piazza e che la metta in un'opera è già un fatto estremamente straordinario ecco lei poi continuerà appunto farà altre opere però mancherà per la peste e qui vi parlo invece di un'altra donna che è sempre all'avanguardia per l'epoca che è Tuglia d'Aragona che era Tuglia d'Aragona Tuglia d'Aragona era una cortigiana una cortigiana e quindi lei offrì la sua sessualità ed era già figlia d'arte diciamo perché già la mamma Giulia era sposata con la sposata aveva una relazione aveva una relazione illecita con Luigi d'Aragona che era il nipote di Alfonso II e si suppone appunto che Luigi d'Aragona fosse il padre di Tuglia d'Aragona Tuglia d'Aragona è una donna fascinante bellissima nasce a Roma alla sua infanzia la fa a Siena ma ha anche tantissime altre doti cioè è una poetessa canta canta in modo una voce estremamente soave e suona il liuto ma non solo questo quindi lei seduce ecco la seduzione non è solo come lo diciamo all'inizio non è solo bellezza non è solo corporeità e anche questo potere sapere entrare con con l'immaginario anche della musica appunto con le parole e quindi lei ha anche questo potere infatti nella sua casa riceve i grandi nobili ma anche grandi importanti banchieri diventare l'amante di un grande banchiere fiorentino ma lei è anche filosofa e scrive in questa qui vediamo il frontespizio è proprio dell'infinità d'amore che viene poi pubblicato nel 1547 ed è un dialogo che lei fa con benedetto Varchi che è un omosessuale quindi entrambi sono in fondo degli outsider e quindi scrivono questo dialogo filosofico sull'amore si interrogano cos'è l'amore e anche per ottenere un riconoscimento sociale ebbene lei arriva a definire l'amore come il desiderio il desiderio dell'altro il desiderio dell'altro che può essere bello il bello dell'altro oppure quello che è bello per noi ma il suo il suo e quindi qui sta la sua genialità e anche la sua appunto l'essere all'avanguardia perché dice non è solo la corporità ma è anche l'entare la comunione l'unione dell'anima dell'anima con l'altro però sostiene che sono entrambe queste due dimensioni a poter far sì che possa nascere veramente un'unione che può poi portare anche come direbbero i platonici filosofi che si rifanno a Platone ad esempio Ficino a vette anche spirituali più elevate però si parte da questa corporità da questo desiderio il desiderio e stiamo ancora alle parole e diciamo che c'è una certa assimetria nel nostro nella nostra gradazione perché le prime due fasi sono di preparazione toccarsi è una specie è la terza ed è un discrimine nel senso che quando secondo Maimonide il tatto è il più vergognoso dei sensi perché appunto connota la sessualità anche e noi abbiamo ricordato Berenson per i valori tattili della pittura italiana perché ci sembrava un'idea importante che si riallaccia a quello che dicevo prima quando la pittura italiana lui fa risalire questo passaggio a Giotto comincia a rendere plasticamente la posizione del corpo nello spazio attraverso le superfici la luce come cade la luce sviluppa questa qualità tattile che non aveva prima e questa capacità di coinvolgere maggiormente quindi diciamo se il il tatto è il più vergognoso dei sensi la pittura e l'arte rinascimentale affrontano e vogliono diciamo così la vergogna nel senso che affrontano il fisico e la fisicità e la rendono molto più vicina all'osservatore e abbiamo visto come Propezia De Rossi abbia catturato il gesto della moglie di Potifarre che vorrebbe per sé Giuseppe che però si sottrae per lealtà verso il proprio padrone e vediamo adesso un famosissimo quadro del Rinascimento che è la cosiddetta Primavera di Botticelli da cui abbiamo trascelto la danza delle grazie la cosiddetta danza delle grazie per l'intreccio delle mani ci piaceva e questo c'è spesso nel libro abbiamo cercato di magari trovare uno scorcio un po' più insolito anche in dipinti o in sculture molto molto famose di solito nella nella cosiddetta Primavera non si fa troppo caso a questo toccarsi femminile che è un toccarsi del ballo e nel ballo è lecito toccarsi e anzi diciamo così è una delle occasioni sociali nel Rinascimento in cui ci si può toccare tra sessi perché è avviare un corteggiamento fisico non solo di occhiate e di parole ma ci piaceva fare far vedere come guardate quanto ha investito il pittore su queste dita che si intrecciano cioè c'è un investimento formale fortissimo non voglio entrare nella nell'analisi simbolica alla Panofsky o alla Wind di questo intrecciarsi ci interessava fare vedere fisicamente la quantità di sapienza formale che entra in questi intrecci di mani qui o in altri episodi della della pittura forse è questo quello a cui si riferiva Guido dell'Ecphrasis nel senso che la parola che cerca di seguire l'immagine è l'immagine che si scioglie in parole questo è un po' la sfida del libro quello di non che vi invito a leggere perché va va assaporato nella prosa cioè la prosa vuole essere anche un è uno degli elementi del libro nella sua fisicità nel senso che cosa come si può passare dall'immagine che ho alle spalle alla pagina e tornare invece dalla pagina e andare verso l'immagine questo è un po' la sfida dell'Ecphrasis queste ragazze fiorentine bionde come devono essere come è il canone della bellezza fiorentina dei primi anni 80 e del 400 che ballano sole contente di farlo ma il loro toccarsi è un toccarsi anche rituale in qualche modo per cui questo appartiene al filone più profondo del libro abbiamo rotto il ghiaccio ci siamo toccati e adesso ci lo facciamo ecco qui ecco il bacio è il momento naturalmente in cui i due amanti si incontrano in modo ancora più intimo il momento della scoperta in realtà veramente dell'altro la scoperta nella sua con il sapore gli odori il profumo dell'altro e qui abbiamo appunto un bacio e due baci diversi che vedremo cioè uno si rifà alla alla al 1468 questo è Francesco del Cossa il mese d'aprile e si trova nell'afresco a Palazzo Schifanoio a Ferrara e qui vediamo ancora come vedete i due i due amanti i due coloro che si sono corteggiati da tanto tempo e adesso lui bacia bacia la sua amata sulla guancia però è tutto ancora molto pudico loro sono vestiti lei è quasi insomma quasi un po' ancora imbarzata e ecco mentre invece se andiamo appunto un po' corriamo un po' nel tempo qui abbiamo un altro di Battista Franco Giove bacia Ganimede ecco Giove è Giove il grande il grande padrone diciamo dell'Olimpo che si innamora di Ganimede Ganimede è un giovane che è bellissimo e lui si innamora e lo vuole rapire vuole cercare di rapirlo e perché perché vorrebbe che diventasse il coppiero degli dei e versasse l'Ambrosia agli altri agli altri membri dell'Olimpo e quindi riesce a farlo e poi appunto a portarlo e a portarlo su e qui vediamo appunto questa trasformazione questa qui va detto che si fa riferimento nel rinascimento si usa tantissimo la mitologia la mitologia greca e e questo per per diversi per diverse ragioni una ragione è quella per cui ci sono naturalmente del la mitologia propone un immaginario dell'antichità un immaginario erotico diverso ma soprattutto permette tramite appunto la mitologia permette di trasgredire in realtà i canoni dell'epoca quindi qui in fondo si parla di un amore però di un amore intanto omoerotico di un amore di un persona molto più adulta con un giovane e quindi questo che assolutamente allora all'epoca in un rinascimento era qualcosa di assolutamente che veniva almeno sensato condannato dalla chiesa qui abbiamo un altro un altro bellissimo questo quadro di coreggio Giove e io di nuovo un riferimento mitologico qui è Giove che si è enamorato Gio e vorrebbe sedurla la vuole la vuole la vuole avere per sé e qui vediamo questo bacio che lo vediamo un pochino più ecco qua questo è un dettaglio che si intravede si intravede e lei vedete come io si lascia andare ecco questo proprio questo credo a questo e se vogliamo qui un po' c'è una certa musicalità questo tutto è tutto in realtà il silenzio vattato però dove sentiamo questi corpi che si promettono di lasciarsi andare ma anche è anche un po' il rischio dell'amore perché in realtà non vediamo benissimo Giove e quindi l'incontro l'incontro amoroso è sempre anche un incontro con l'altro un incontro che cerchiamo di capire che però anche che a volte ci sfugge e credo in questo quadro credo che riesce a proprio esprimere questa anche ambivalenza dei rapporti amorosi sì nel racconto mitologico Giove sfrutta l'oscurità per sedurre io e invece visivamente in corregio questa oscurità diventa un corpo che bacia una nuvola oscura che bacia e a cui la la donna si abbandona e quindi c'è questo passaggio dalla parola all'immagine fortissimo è l'invenzione rinascimentale molto affascinante e su fare l'amore c'è parecchia parecchia carne al fuoco diciamo così c'è l'imbarazzo della scelta a vari livelli perché allora i limiti cronologici del libro sono quelli della controriforma quindi noi arriviamo sostanzialmente fino agli anni 50 a metà 500 c'è qualcosa c'è veronese qualcosa di un po' più tardo però cambia la morale si mettono come sapete per esempio i mutandoni ai ai corpi nudi di Michelangelo nella parete di giudizio universale perché la chiesa della controriforma ha un'altra agenda sulla fisicità e sul rapporto erotico fino a quel momento e soprattutto negli anni 20 del 500 gli anni 20 gli anni 30 l'arte la poesia la rappresentazione fisica sono molto 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 forti molto vanno nel dettaglio e scoprono la fisicità anche esibita non è pornografia perché non esiste né la parola né il concetto ma certo è qualcosa che che rappresenta un un climax in qualche modo nella storia dell'arte occidentale bisognerà aspettare poi la tradizione libertina la cultura libertina settecentesca per trovare momenti simili forse abbiamo un'immagine di Marco Antonio Raimondi allora la storia e questa è una delle cose che ci interessano nel libro fare vedere come l'idea di erotismo diciamo gli esperimenti con l'eros rinascimentali nascono soprattutto in arte a livello di elite nell'elite e poi si diffondano con strumenti di divulgazione come la stampa ad esempio o come l'incisione nel senso che la storia di questi modi dei cosiddetti modi di Marco Antonio Raimondi proprio esemplifica questo processo cosa succede? succede che nel 24 tra il 23 e il 24 Giulio Romano disegna a Roma per committenti d'alto bordo cardinali per la cerchia in realtà dell'alto livello della curia dei disegni e di posizioni erotiche molto espliciti molto belli e molto espliciti e questo nel gruppo chiuso dei suoi committenti incontra apprezzamento fatto sta che poi nell'ottobre Giulio Romano si sposta da Roma per Mantua e Marco Antonio Raimondi resta a Roma e Marco Antonio Raimondi l'incisore bolognese incide i modi di Giulio Romano viene messo in prigione perché il passaggio dal disegno elitario all'incisione che comincia a muoversi in un pubblico più ampio non piace assolutamente all'inquisizione e al controllo ecclesiastico ci si mette Pietro Arettino che è il personaggio è il social influencer che conosciamo e scrive dei sonetti lussuriosi su queste su questi modi di Giulio Romano trasposti in incisioni di Raimondi insomma una gran un notevole effetto mediatico alla fine Giulio Marco Antonio Ramondi viene rimesso in libertà il libello di Pietro Arettino è un grande classico dell'erotismo viene censurato distrutto da inquisizione in realtà ne sopravvive solo una copia i disegni originali Giulio II non ci sono arrivati le incisioni di Raimondi esiste è discussa la situazione ma esiste una copia allo stato che vedete di Franco Bollini che sono al British Museum che in età vittoriana sono stati ritagliati per evitare che si vedesse troppo questa è la pruderia vittoriana cioè ridotte così nel libro le trovate trovate per intero tutte le tavole dei sonetti lussuriosi perché le volevamo fare vedere nella loro testo e immagini però le incisioni originali sono queste tutte sforbiciate nel senso che quello che ha provato di fare e ha fatto il rinascimento negli anni venti e cinquecento dell'Inghilterra della pruderia ottocentesca è stato ridotto a corpi che però non si vede bene cosa stiano facendo mentre invece nei sonetti si vede benissimo l'ultima immagine è sempre il nostro Giulio Romano sempre mila e cinquecento ventitré di un erotismo ecfrasis di un erotismo che si prende il suo tempo sono preliminari evidentemente c'è una una signora anziana adesso è tagliata che sbircia quindi c'è il goiarismo e noi sbirciamo la signora che sbircia i due amanti e c'è soprattutto nel nel quadro che è stato dipinto che è stato in mostra a Palazzo T viene dall'ermitage providenzialmente prima della guerra perché adesso sarebbe impensabile avere un prestito di questo genere c'è un tema che ci sta molto caro che ci stava molto caro nel libro e che è ripreso anche nel titolo questa reciprocità questo amarsi nel senso che non abbiamo sempre scelto della dimensione della coppia della coppia omoerotica coppia eterosessuale però del fatto che ci sia un rapporto di scoperta e di sfida e anche di mistero ci si può innamorare di una dell'oscurità ci si può innamorare di un di un riflesso dell'amata ma insomma comunque c'è questa reciprocità molto fonte ecco sì e qui aggiungerei giustamente Guido ci ha detto all'inizio che è un viaggio trasformativo l'amore è sempre in qualche modo trasformativo però ecco voglio aggiungere qui un aspetto cruciale è solo la trasformazione di sé ma è proprio la trasformazione intanto di entrambi per arrivare a un altro a un altro cammino a un altro modo di vedere un altro sentiero ma di secondo me sono molto estremamente bello il quadro che abbiamo visto all'inizio dove quando si parlava del guardarsi di lippi si parlano però in fondo vediamo uno scorcio un percorso una via ecco questa è la trasformazione che avviene in entrambi per arrivare a un percorso addirittura altro quindi non è solo una trasformazione come dire solo unicamente riferita a sé ma è proprio dovuta all'incontro a questa reciprocità quindi adesso volevo leggervi proprio all'inizio un paio di frasi iniziali che sono un po' la sintesi di questo di quello che abbiamo detto e anche così sentite un po' la musicalità del nostro del nostro testo amarsi il titolo del nostro libro è un verbo reciproco indica cioè un'azione compiuta da due soggetti diversi l'uno verso l'altro certo amarsi significa anche amare se stessi mettere a fuoco e tutelare i propri piaceri e interessi individuali ma non è la solitudine che ci interessa ciò di cui andiamo in cerca è l'incontro il sorgere dell'inquietudine emotiva l'attrazione lo scambio l'intrecciarsi dei corpi e delle anime vogliamo capire come si scopre l'altro per quali strade lo si raggiunga di che cosa sia fatta la pienezza del desiderio amori tra donne e uomini tra uomini e uomini tra donne e donne non importa se i generi si mescolano si intrecciano si respingono quello che cerchiamo è il mistero della reciprocità amorosa che il rinascimento ci svela in modo nuovo profondo conturbante creativo grazie per la vostra attenzione grazie grazie grazie